Un progetto che nasce dalla sensibilità della venariese Tiziana Mastro Simone e Ugo Parenti. Il radulo di Harley Davidson si terrava in area reale il prossimo 7 aprile in piazza annunziata, quando si dice essere sulla stessa barca. Loro hanno preso questa locuzione metaforica proprio alla lettera ed è così che, a mainate le vene della Pole Pole, una bavaria 41 di 12 metri attaccato al porto antico di Genova, gli amici venariesi hanno pensato di realizzare questo incontro di biker e beer con una finalità solidale. Ne parliamo con Luca Buscemi, Antonio Di Salvo e Luciano Randazzo. Come nasce questo progetto? Abbiamo deciso questa bellissima cosa davanti a un boccale di birra in una birreria dove frequentiamo spesso e volentieri durante la settimana il nostro carissimo amico Luciano che in realtà è un po' il nostro covo. Abbiamo pensato a questa cosa qui, cioè di unire l'utile a dilettevole perché noi in realtà ci divertiamo tantissimo in moto, facciamo uscite domenicali però quest'anno per l'apertura della stagione abbiamo pensato a qualcosa di più. Abbiamo conosciuto Ugo Parenti che ci ha spiegato come funzionava il progetto Pole Pole, un progetto sicuramente che comprende tutta l'Italia ma nello stesso tempo a noi piace già in questa piccola Piemonte, in questa piccola area torinese e nonché Venaria cercare di creare qualcosa che poteva aiutare qualcun altro. Quindi abbiamo detto perché non associarci a questo progetto Pole Pole che spiegheremo poi successivamente di cosa in realtà si tratta nel dettaglio creando un motogiro per unire sì il nostro hobby, il nostro piacere a quello che potrebbe essere un'arcolta fondi per questo progetto. Ogni progetto è nullo se non c'è energia e voglia di fare ed è proprio il rombo dei motori e dei biker che si ritroveranno il 7 aprile in Piazza Annunziata tutti assieme per aiutare i ragazzi autistici di tutta Italia che hanno aderito al progetto Pole Pole. Il rombo sì, in realtà unisce molto, vi invitiamo a vederlo poi dal vivo il 7 di aprile perché è un'esperienza ma anche una cosa molto bella da vedere e quindi indubbiamente il rombo unisce proprio per questo motivo come il motogiro che faremo. Qualunque moto sarà invitata a partecipare a questo evento non solo le Harley Davidson ovviamente, però le Harley Davidson le faranno un po' da padrona Tant'è vero che parcheggeremo in Piazza dell'Annunziata verso le ore 16 per poter far gustare diciamo tutte le piccole personalizzazioni delle nostre moto a chiunque vorrà vederle. Le due ruote per la solidarietà, un raduno di Harley Davidson a vera riga reale per sostenere il progetto Pole Pole, il viaggio in barca per unire i ragazzi autistici di tutta Italia. Ci troviamo al Decathlon di Gurliasco alle 12, ci sarà l'incontro di tutti i ragazzi e di tutte le persone che hanno già adottato la preiscrizione, consegneremo le magliette perché in questo evento ci saranno delle magliette celebrative, partiremo per un giro che toccherà anche il Lago di Avigliana, attraverso questo giro tutti uniti raggiungeremo la città di Venaria, percorreremo poi la via pedonale in direzione della Piazza Annunziata dove parcheggeremo le nostre moto, faremo un pochettino di esposizione, chiameremo un po' di gente chiameremo un pochettino di persone in maniera tale che anche il passante si possa fermare e in qualche modo poter contribuire a queste raccolta fondi. Abbiamo anche voluto rendere più il tutto in Piazza Annunziata a portata di bimbi, infatti grazie a un'associazione che verrà a titolo gratuito ci sarà una trucca bimbi, quindi avremo piacere che tutte le famiglie che si volessero fare una passeggiata domenica mattina e far truccare il loro bimbo e tutto quanto raccoglieremo andrà sempre devoluto in beneficenza. Per sostenere il progetto Pole Pole, ne parliamo con Tiziana Mastro Simone. Il progetto nasce un'iniziativa da tra amici, come è stato spiegato anche in conferenza stampa. Abbiamo approvato questo progetto per una raccolta fondo con l'autismo, abbiamo conosciuto Ugo Parenti che è uno del papà dei ragazzi che sono affetti da autismo. Tutto questo è nato in realtà facendo, avevamo pensato di fare soltanto un piccolo rinfresco con i ragazzi della Bikers & Beer per accogliere dei fondi. Invece poi abbiamo pensato, avevamo bisogno di poter avere il permesso del suolo pubblico per parcheggiare le moto in piazza e tutto questo progetto l'abbiamo presentato in comune e fondamentalmente è piaciuto molto e quindi dobbiamo ringraziare tutta l'amministrazione comunale che ci ha supportato su questo progetto. Semplicemente questo progetto nasce un po' da un profondo sentimento dove io con mio marito avevamo sempre sperato di poter fare qualcosa per la piazza, poter fare qualcosa per il centro storico perché crediamo nella via, crediamo nel commercio, crediamo che si può fare di più e si può fare anche un aiuto fondamentalmente per il prossimo. Quindi tutto questo dobbiamo anche ringraziare Pino che non c'è più perché lui ha sempre creduto, ha sostenuto queste cose e noi siamo arrivati al dunque, siamo molto contenti, siamo molto fieri. Da una piccola ritrovo tra ragazzi e una birra alla fine è nato un grande progetto con la Filos, con Ugo Parenti, con i ragazzi da Biker, con l'amministrazione, siamo molto contenti. Una grande solidarietà che porta anche il nome di Pino. Al progetto hanno dato appoggio la Guardia Costiera, la Marina Militare e l'utilizzo del logo dell'iniziativa dell'Istituto Idografico della Marina. Siamo con il papà di uno di questi ragazzi autistici, Ugo Parenti. Io tendenzialmente da genitore non dico mai cos'è l'autismo, io posso dare il mio contributo come testimonianza, nel senso Francesco oggi ha 22 anni, è affetto da autismo livello 1 a sindrome di Asperger ed è stato per noi genitori come tantissimi altri genitori inizialmente un calvario riuscire a trovare una diagnosi che inquadrasse il nostro figlio. Grazie a Dio adesso dopo 22 anni le cose sono cambiate, grazie anche a associazioni di genitori locali ma anche nazionali è finalmente un po' per i nostri ragazzi, i ragazzi davvero le cose stanno cambiando. E grazie a queste persone speciali che si incontrano nella nostra vita, anche quasi casualmente, che si possono fare queste iniziative come questa di Pole Pole. Poter creare delle iniziative per i nostri ragazzi che li aiutino a prendere più autonomia, più fiducia in se stessi e assimilare anche delle autonomie che per loro sono veramente molto difficoltose da assimilare. Qual è l'appello che i genitori vogliono lanciare alle istituzioni? Non lasciate sole le famiglie ma non lasciate soli i genitori perché c'è tantissime iniziative centrate su dare un aiuto concreto ai ragazzi che va benissimo, anzi sempre meglio e cerchiamo di migliorare sempre anche in questo ma non dimenticatevi che dietro al ragazzo c'è una famiglia e ci sono dei genitori, c'è una coppia e ci sono esseri umani che soffrono e hanno difficoltà. Ed è proprio questo l'obiettivo della giornata organizzata da Tiziana Mastro Simone e da Ugo Parenti, ovvero far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e contrastando le discriminazioni e l'isolamento delle persone malate. Il sindaco Roberto Falcone ricorda che il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Una giornata sancita dalle Nazioni Unite nel 2007 che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla patologia autistica nella speranza di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo.